Musica Dario Chiadò, responsabile d'arma della Spada Azzurra, sembra ieri il giorno dell'insediamento e domani, dopo domani, il giorno dell'esordio, dei primi impegni internazionali, ma intanto, maestro Chiadò, c'è da fare i conti con un primissimo bilancio dei primi allenamenti collegiali, il tuo primo giro d'orizzonti. Come sta la Spada Italiana? Allora, è un ambiente che io conosco da tanti anni, quindi non ho avuto grandi sorprese, conosco bene questi ragazzi, alcuni addirittura da quando mi occupavo dell'Under 20, ormai tanto tempo fa, insomma, sta bene, senz'altro, nel senso che ci sono delle figure consolidate che io avrò il compito di cercare di far rendere al meglio possibile, ci sono dei ragazzi più giovani che hanno delle potenzialità enormi, è chiaro che l'ingresso nello scenario assoluto, io parlo in questo momento di assoluti perché l'esordio con l'Under 20 deve ancora un attimino avvenire, alcune gare sono saltate per questioni ancora un po' legate al Covid, ma ci sono dei ragazzi che devono fare tanta esperienza perché lo scenario internazionale della Spada è innanzitutto molto ampio perché ci sono sempre più nazioni competitive come abbiamo visto anche le Olimpiadi e soprattutto è un'arma molto longeva per cui ci sono atleti decisamente esperti che hanno un gap ancora ampio da colmare per molti nostri giovani, quindi il percorso sarà quello di accompagnare un pochettino gli atleti già più conclamati, affiancandoli alle nuove generazioni, alle nuove potenzialità con l'obiettivo reciproco di aiutarsi a vicenda, io mi aspetto che l'atleta esperto apra un pochettino la strada per far diventare più scafati questi giovani su cui andremo ad investire e di contro vorrei anche che loro fossero l'impulso e la spinta per far sentire all'atleta esperto che è sempre necessario, io credo che questo stimoli molto l'agonismo, mantenersi a buoni livelli che si spera che diventino ottimi ed eccellenti. Poi approfondiamo anche lo stato dell'arte, però non posso non partire dal maestro Dario Chiadò che accennavi l'esperienza azzurra di lungo corso, prima con il gruppo Under 20, poi con la nazionale assoluta, l'esperienza olimpica di Rio 2016 con lo staff azzurro, con la medaglia d'argento a squadre, però sarà di qui a qualche giorno la prima gara da CT, da responsabile d'armo. E allora anche le tue sensazioni, il tuo sentire alla vigilia di questo debutto, perché è un debutto anche per Dario Chiadò. Sì, ma io voglio arrivarci veramente molto sereno, nel senso che io mi sono dato un po' l'obiettivo nel mio mandato di sostanzialmente pormi un po' come il gestore delle risorse umane che abbiamo disponibili, sia dei tecnici che degli atleti, cercando di mettere un po' tutti nella condizione migliore. Quindi mi sto molto concentrando sull'idea di creare delle situazioni che diano la giusta serenità e anche il giusto stimolo, come abbiamo visto prima, per riuscire a rendere il meglio. Quando uno fa tutto quello che è nelle corde ed è possibile fare, credo che si possa arrivare agli appuntamenti con la dovuta serenità. Poi sappiamo ovviamente che il risultato dipende da mille variabili, più le variabili sono tenute sotto controllo, chiaramente, e più la probabilità che il risultato arrivi è alta. Non guarderei nel breve periodo, nel senso che nella scherma la linea, il conto, si traccia sempre nel tempo, non essendo uno sport legato a un cronometro, a una prestazione, eccetera, spesso si passa anche per momenti più complicati che poi dopo diventano invece momenti molto positivi. Per cui più che un ragionamento sulla prossima gara vorrei fare un ragionamento un po' più di ampio respiro, magari sulla stagione, magari su un periodo, diciamo, il più breve possibile, nel senso che è chiaro che più si stringono i tempi e si riesce a ottimizzare la prestazione e meglio è, però io vedo questo primo passaggio come un inizio di un percorso, tra l'altro nelle squadre ho anche un po' fatto scelte diverse dal punto di partenza che è stato quello dell'Olimpiade, perché la stessa squadra femminile che si è confermata a essere stata competitiva di sicuro, non avrà in questo momento Rossella e Mara partecipi, ma questo non perché assolutamente il concetto sia quello di smontare una squadra che ha funzionato, ma semplicemente dare delle possibilità di vedere come si, in questa piccola finestra che abbiamo, perché è chiaro che l'anno in meno di tempo astrigge un attimino le possibilità, ma dare una possibilità a vedere come ci si comporta in pedana, capire anche come determinati atleti potrebbero o se dovesse diventare necessario essere utilizzati, perché questo chiaramente significa avere uno scenario, un polso della situazione che nel mio ruolo è molto importante, insomma, anche se poi si chiuderà una squadra in previsione del mondiale, eccetera, che potrebbe ancora cambiare prima dell'Olimpiade, ma l'importante è costruire le basi per avere degli elementi per fare delle scelte il più ponderate possibili, insomma, questa è un po' la filosofia di quello che è cambiato. C'è una parola, metodo, che a volte sta molto a cuore, siamo al centro di preparazione olimpica dell'Acqua Cetosa, siamo in uno dei ritiri che svolgete prima degli appuntamenti importanti a livello internazionale, però insomma la scherma in questo ha anche la sua particolarità che fa sì che l'allenamento quotidiano di ogni atleta si sviluppi prevalentemente nelle proprie città d'origine, nelle proprie sale di appartenenza con i tecnici di riferimento. In questo la collaborazione tra le singole società, i singoli tecnici, la nazionale di cui tu sei a capo, come sarà inquadrato? Sì, il concetto è proprio, mi fa piacere questa domanda perché io parto dal presupposto che il nostro modello per come è costruito storicamente in Italia si fonda sulle attività nelle società, quindi lì nascono gli atleti, lì vengono allenati, gli atleti di vertice oltre alla figura del maestro hanno degli staff personali di preparazione atletica eccetera, quindi io in questi momenti in cui ci troviamo insieme vorrei cercare di incastrarli come se fosse un proseguimento del loro percorso, chiaramente in una situazione dove si crea però lo spirito di gruppo, l'affinità con i tecnici che saranno poi magari al fondo delle pedane e magari non sarà per forza di cose il tecnico dell'atleta, anche se io sto cercando di creare un po' le condizioni per cui tutti gli atleti di vertice abbiano la possibilità di avere anche quel tipo di continuità, ma non è detto che sia sempre così, il trucco lì sarebbe nel tempo riuscire a costruire un'amalgama veramente all'interno della squadra e una intercambiabilità tale per cui se la fiducia è reciproca ad ampio raggio questo è un valore aggiunto enorme, vuol dire avere una forza di impatto quando si entra dentro in un palazzetto e molto spesso le gare vanno bene anche perché uno riesce a proporsi come una squadra veramente coesa e competitiva, io in questo credo molto, per cui sto cercando di costruire situazioni di questo tipo, i nostri preparatori atletici per dire sono oltre a disposizione per chi vuole fare una preparazione collettiva eccetera, ma sono un appoggio al proseguimento delle preparazioni individuali che i preparatori a casa hanno costruito per i loro atleti e questo lo stiamo anche costruendo con degli appuntamenti, delle riunioni, adesso ci sono le call conference che vanno benissimo dove io ho preso contatto con tutti i preparatori degli atleti di prima fascia, li ho messi in contatto con il nostro staff di preparazione, i programmi sono condivisi in modo che noi staff siamo a conoscenza di quello che l'atleta del percorso che sta facendo, possiamo esserne un valore aggiunto, dare dei consigli, apprendere delle cose, insomma creare una sinergia molto forte, utilizzando anche il territorio perché ad esempio la stagione è molto fitta per cui ci sono dei periodi in cui diventa difficile incastrare magari un appuntamento collegiale, ma utilizzando le risorse che abbiamo sul territorio tipo i referenti CAF che possono creare situazioni per gli atleti che magari hanno meno sparring all'interno delle sale per creare dei momenti in cui si riesce comunque a tirare in maniera congiunta facendo convergere in un posto atleti di un certo livello, secondo me è un lavoro a 360 gradi che sono fiducioso possa dare dei buoni frutti. Trasforma in serie la risposta a una domanda banale e che sembra una battuta, è più facile fare il CT della spada visto che c'è una platea estremamente ampia di praticanti o è più difficile scegliere? Partiamo da questa banalità per dire che è l'arma che ha il maggior numero di interpreti, di agonisti e quindi un commissario tecnico come la guarda questa folta platea. È più difficile, è una delle cose che più mi preoccupano riuscire a fare sempre le scelte giuste perché nel nostro mondo della spada basta prendere una classifica di una gara qualunque e confrontarla con una gara anche soltanto di tre mesi dopo c'è una rotazione di risultati, una platea di atleti che possono fare veramente prestazioni di eccellenza molto ampia e molto variabile, per cui c'è l'atleta fortissimo che può fare 128 ad una gara e fare una finale a quella successiva o l'atleta che magari da un po' di anni non fa risultato e all'improvviso lo fa, quindi è chiaro che riuscire a creare delle, non chiamiamo le gerarchie ma al termine quello lì, insomma alla fine un ordine di valori non è così semplice. In più si somma il fatto che veniamo da un periodo in cui sono state fatte poche gare, quindi questo non fa che complicare. Io ho ritenuto comunque giusto e lo sto facendo tenere per buono quei risultati che sono stati fatti nel momento più recente perché un'altra cosa importante è che se l'atleta ovviamente riesce a ottenere un risultato in qualche modo deve essere riconosciuto, deve essere premiato perché sennò si perde proprio il gusto, la motivazione per farlo questo sport. È chiaro che io starò molto a guardare quello che succederà nei prossimi appuntamenti, sperando che la stagione possa svolgersi nella maniera più serena possibile, quindi con tutti gli appuntamenti che ci saranno e questo rimetterà a posto probabilmente un po' di situazioni che adesso sono un po' più flessibili. Magari non parliamo delle primissime linee ma delle situazioni dell'under 20 o dei giovani emergenti che hanno una variabilità maggiore. Quindi sì, difficile. Ti lascio con un flash per farti arrabbiare dopo quello che mi hai detto. Però Tallinn e Berna sono l'editoria potrei dire i numeri zero, la primissima tappa della stagione internazionale che riparte dopo una lunga sospensione visto che dal post Covid, dall'Olimpiade c'è stata soltanto una prova di Coppa del Mondo con degli esperimenti, con poca preparazione comune per tutti visto che siamo ancora all'alba della stagione, però quali sono le aspettative che porta con sé questo doppio appuntamento che sarà in contemporanea Tallinn per il settore femminile e Berna per il settore maschile? Vincere. Noi si parte per vincere sempre. Vincere a volte non vuol dire sempre solo per forza arrivare primi, vincere vuol dire andare a fare una buona prestazione. Io vorrei riuscire a vedere dei ragazzi che arrivano con una grinta giusta, con la voglia o sto cercando in questi due appuntamenti che abbiamo avuto insieme di dare molti segnali nella costruzione di una mentalità che sia il credere nelle proprie potenzialità perché questo fa, cioè il nostro sport come dicevo prima non è la misurazione di un tempo ma è tutto quello che riesce a mettere in campo, che deve essere supportato dalla preparazione fisica, dalla tecnica perché questi sono poi dopo gli elementi che, ma l'interpretazione ha un suo valore. Per cui è solo l'inizio di un percorso ma io credo molto nel fatto che arrivare con le giuste motivazioni sia la base per una prestazione di successo che in qualche modo significa vincere. Poi arrivare in fondo alla gara, abbiamo detto prima, ci sono tante sfumature e tante cose che possono capitare. Tra l'altro c'è sempre questa, a parte delle gare GP, c'è questa duplicità della gara individuale, della gara squadra, quindi anche l'atleta deve trovare un equilibrio ed una sinergia tale che lo riesca a motivare nelle forme, nelle dosi giuste per entrambe le prestazioni, il che non è così semplice. Io nasco dal percorso da maestro, non sono stato un atleta assolutamente mediocre, ma capisco e comprendo, sono talmente tanti anni che sto con gli atleti, che concentrarsi sempre su due appuntamenti così vicini non è semplice, c'è un equilibrio che devono trovare anche di motivazioni e di energie che devono trovare loro. E anche questa formula qua è una cosa che nel tempo vorrei costruire nel modo e nella mentalità giusta. Deve essere una squadra che si muove perché oggi magari la gara buona arriva per uno, ma domani arriva per un altro e il supporto di tutti è quello che dà la possibilità di alzare la sticella e anche di rendere al meglio nel momento della prestazione a squadra, perché il creare gruppo chiaramente dà quegli input giusti per cui un po' in automatico la gara a squadra diventa la coda della gara individuale e non per forza di cose l'atleta deve fare una selezione dell'una o dell'altra prestazione. Un discorso un po' complicato ma spero di essermi fatto comprendere insomma. Buon lavoro e bocca al lupo. Grazie, a voi, ce ne è bisogno. Grazie.